cari amici ben trovati al terzo ed ultimo video dedicato alla vita di giulio cesare gli ultimi cinque anni quelli della guerra civile e dell'epilogo alle fatidiche id di marzo lo vedete la storia precedente ve l'ho raccontata nelle prime due lezioni e ci eravamo lasciati agli accordi di lucca del 56 con i quali cesare pompaio e crasso avevano cercato di ricucire il triunvirato traballante ora non mi dilungo su questo episodio ve ne ho già parlato la scorsa volta ma giusto per riprendere il filo del discorso vi ricordo che nel periodo che stiamo considerando adesso cioè gli anni immediatamente precedenti allo scoppio della guerra civile cesare è in gallia come proconsole fino al primo marzo del 49 pompeo e proconsole in spagna e crasso in siria allora riprendiamo proprio da qui e andiamo insieme alla scoperta delle cause della guerra fratricida fra cesare e pompeo che avrebbe portato alla fine della res pubblica dunque dicevamo le cause della guerra civile beh fondamentalmente la causa prima fu una sola la rivalità insanabile fra due grandi e ambiziosi generali entrambi quali nascostamente ma neanche troppo aspiravano al potere di uno solo i due erano sì legati da un accordo privato il triunvirato peraltro rinsaldato nel 56 con gli accordi di lucca ma già subito dopo questa data l'alleanza aveva dimostrato nuovamente tutta la sua fragilità nel 54 infatti era morta giulia la figlia di cesare e cornelia sposata a pompeo mentre l'anno dopo nel 53 era morto in siria anche crasso entrambi notevoli elementi di mediazione inoltre a roma la situazione era ormai ingestibile proprio da questo magma che ribolliva sorse il casus belli clodio e milone infatti vi ricordate i due demagoghi l'uno di parte popolare e l'altro senatoria si erano candidati rispettivamente alla pretura e al consolato ma le loro bande rivali provocavano tumulti impedendo le elezioni roma era ormai ingovernabile nel 52 già da un anno si trovava senza consoli e non si riusciva nemmeno ad eleggere l'inter rex durante uno di questi scontri clodio finì ucciso sui cogli albani per mano di milone roma in predal caos il senato fu costretto a demanare il senatus consultum ultimum una sorta di legge marziale che veniva applicata soltanto in casi di gravissima emergenza con tale norma il senato nominò pompeo consul sine con lega ed in tal modo egli che come vi ho detto prima in quegli anni era già pro console finì per riunire in sé il potere pro consolare e quello consolare e sulla scorta di questi superpoteri pompeo da un lato si fece prorogare il proprio consolato in spagna per altri cinque anni mentre dall'altro si diede da fare per porre fine a quello di cesare che come vi ho detto prima scadeva il primo marzo del 49 stiamo arrivando al famigerato passaggio del rubicone che avrebbe segnato l'inizio della guerra civile entro il primo marzo cesare doveva lasciare la gallia e tornare a roma occhio però capiamo bene questo aspetto che è importante tornare a roma non significava entrare nella città di roma ma nel territorio di roma che non è la stessa cosa come state vedendo infatti dalla cartina il territorio di roma era quello che vedete in verde dove ho segnato la linea rossa si trovava invece il confine tra la provincia della gallia cisalpina e il territorio dell'urbe ma chiariamo bene anche quest'altro aspetto perché proprio il primo marzo e perché era così importante per il senato e per pompeo che cesare tornasse a roma beh non so se lo sapete ma il primo marzo era il dies natalis cioè il compleanno di romolo e quindi nel calendario romano era il primo giorno dell'anno pertanto anche quello in cui i nuovi magistrati entravano in carica mentre i precedenti la terminava e ora attenzione lasciare la provincia per un proconsole significava congedare il proprio esercito alla luce infatti di una norma antichissima stabilita niente di meno che da romolo all'atto della fondazione della città nessuno poteva oltrepassare armato il pomerium cioè il sacro confine dell'urbe che romolo aveva tracciato dopo aver preso gli auspici violarlo sarebbe stato quindi ben più che un atto di forza piuttosto un atto di empietà contro gli dei e il fratello del primo re di roma lo aveva imparato sulla sua pelle ora però dovete tenere presente che con l'espansione di roma il pomerium cioè il sacro confine della città si era esteso e a nord coincideva con il confine della gallia cisalpina vi ricordate la linea rossa che vi ho mostrato prima cesare era dunque in trappola sarebbe stato fuori legge sia se fosse rimasto in gallia oltre il mandato stabilito sia se fosse tornato a roma con l'esercito al seguito la sua unica possibilità per rimanere nell'ambito della legalità era dunque ritornare a roma dopo aver congedato l'esercito solo che pompeo avrebbe continuato ad avere a sua disposizione proprio e questo era il tranello perfetto che il senato e pompeo gli avevano confezionato per questo motivo cesare fece sapere al senato che ne avrebbe lasciato la gallia ne avrebbe congedato l'esercito a meno che pompeo non avesse fatto altrettanto è il primo gennaio del 49 la sua richiesta non è stata accettata in senato si vota la mozione secondo la quale se cesare non avesse lasciato la gallia entro il termine stabilito sarebbe stato dichiarato hostis publicus per tutta risposta giulio cesare che in quei giorni si trovava a ravenna allora gallia cisalpina si appropinqua con tutto il suo esercito verso il confine del sacro pomerium allora delimitato da un insignificante fiumiciattolo di nome rubicone è il 12 gennaio cesare con tutte le sue legioni al seguito oltrepassa il fiumiciattolo che da allora non sarebbe più stato tanto insignificante almeno dal punto di vista storico e pronuncia la famigerata frase che in latino suona alea iactast il dado è tratto con essa ha ufficialmente inizio il bellum civile il fatto è che pompeo si trovava a roma ma tutte le sue legioni erano in spagna egli capisce che sarà impossibile difendere l'urbe dalla furia vendicativa di cesare ordina quindi al senato di abbandonare la città e degli stesso fugge verso brindisi da dove intendeva imbarcarsi per la grecia ricordate infatti che pompeo anni addietro aveva combattuto in oriente contro mitridate e aveva quindi allacciato amicizie fra re e principi che sperava lo avrebbero potuto aiutare siamo all'inizio dell'anno 48 pompeo ignaro che non avrebbe più fatto ritorno in italia si è insediato a tessalonica e ha raccolto legioni fra i principi suoi amici cesare gli sta alle costole il 9 agosto lo raggiunge ed avviene la battaglia decisiva a farsalo in tessaglia l'epico scontro che il poeta lucano avrebbe cantato nella sua farsaglia sconfitto pompeo fugge verso l'egitto sempre alla disperata ricerca di amicizie che lo potessero aiutare lì infatti anni addietro i suoi veterani avevano aiutato il re tolomeo aulete a reinsediarsi sul trono precedentemente perduto a causa di una lotta dinastica cesare sta inseguendo pompeo per tutto il mediterraneo arriva in egitto sbarca ad alessandria dove il figlio dell'aulete gli dà il benvenuto con un prezioso dono la testa mozzata di pompeo cesare però pianse e non gradì molto il regalo d'altra parte ebbe sicuramente piacere di trattenersi in egitto dove oltre a sedare rivolte ed intervenire in conflitti dinastici visse la love story diventata una delle più famose di tutti i tempi quella con cleopatra sorella sposa di tolomeo 14esimo proprio il re che aveva ucciso pompeo poco dopo la sua partenza cleopatra diede alla luce un figlio cesareone malgrado la morte di pompeo la guerra civile non era ancora terminata bisognava neutralizzare le sacche di resistenza pompeiana e senatoria sparse per il mediterraneo se ne occupò cesare dopo aver lasciato l'egitto dapprima nel 46 sconfisse l'armata pompeiana superstite che si era radunata in africa con la battaglia di tapso a seguito della quale fu istituita la provincia africa nova fra i resistenti in africa c'era anche catone l'acerrimo avversario di cesare che tante volte aveva parlato contro di lui in senato e che pur di non cadere vivo nelle sue mani si piantò una spada nello stomaco del fiero gesto si sarebbe ricordato dante che fece di catone il custode del purgatorio e che lo immortalò con i celeberrimi versi libertà va cercando che si cara come sa chi per lei vita rifiuta l'anno dopo nel 45 con la battaglia di munda sconfisse anche i figli di pompeo che si erano rifugiati in spagna a settembre del 45 cesare fece finalmente ritorno a roma che ormai era tutta su giulio cesare è solo certamente ignaro che di lì a pochi mesi non avrebbe più visto la luce sapeva comunque già da tempo che la sua vita era minacciata e le riforme costituzionali che si diede a promulgare non migliorarono almeno da questo punto di vista la sua situazione personale la verità è che cesare aveva capito che nella profonda crisi della res pubblica era necessario che la direzione dello stato venisse accentrata nelle mani di un princeps illuminato che risolvesse risolvesse il particolarismo delle fazioni e aveva anche capito che l'impero era ormai una situazione di fatto e per tenerlo unito il giuoco democratico delle magistrature repubblicane non era più idoneo e anche se gli storici non sono tutti d'accordo nell'affermare che cesare se non fosse stato ucciso si sarebbe fatto re è in realtà piuttosto chiaro che egli intendeva arrivare anche da un punto di vista giuridico costituzionale ad un ordinamento monarchico in tal senso cesare a partire dal suo ritorno a roma emanò una serie un pacchetto di riforme costituzionali tendenti ad accentrare su di sé i poteri di varie magistrature indebolendo in particolare il consolato e tendenti anche a ridurre il senato ad organo semplicemente consultivo inoltre e fu questa da parte sua la cosa più imprudente si circondò anche dei segni formali del potere monarchico anzi di un potere che tendeva quasi a resuscitare quello degli antichi re di alba e di roma in ciò cesare era fomentato dallo stesso senato che proprio con l'obiettivo subdolo di renderlo odioso ai più continuava ad accumulare onori su di lui senza che cesare accecato dall'ambizione rifiutasse nulla era dittatore a vita censore unico a vita e pontefice massimo i suoi atti ebbero forza di legge gli fu concesso di portare sempre dentro roma la toga purpurea dei trionfatori in senato sedeva su un seggio d'oro e poi l'ornamento con cui sempre lo vediamo raffigurato la corona di foglie d'oro onore che per sua stessa ammissione fu per lui il più gradito di tutti e sapete perché perché cesare era quasi completamente calvo i pochi capelli che aveva se li tirava giù tutti davanti sulla fronte e quindi la corona gli copriva lo scalfo mi sono dilungato un po su questi particolari perché non sono semplici note folcloristiche fu infatti proprio l'aura del tiranno di cui cesare si circondò ad accelerare la congiura dovete infatti ricordare che il giorno in cui tarquinio il superbo l'ultimo re era stato cacciato da roma i cittadini avevano fatto un giuramento solenne mai più avrebbero permesso a qualcuno di diventare re e secoli dopo ancora se lo ricordavano e custodivano nel sangue l'odio e il terrore verso la tirannide pensate che una mattina i romani si svegliarono e trovarono una scritta sul basamento della statua di lucio giugno bruto colui che aveva appunto scacciato tarquinio e primo console di roma la scritta diceva utinam viveres magari fossi ancora vivo veniva anche ma già da parecchio tempo il riso e schernito pubblicamente lo chiamavano l'adultero calvo perché era ben nota a roma la sua passione per le donne soprattutto quelle degli altri e fra l'altro era stato proprio lui a fomentare i pettegolezzi di mezza roma circa una sua relazione giovanile con nicomede re di bitinia un giorno comparve sui muri della città una scritta cesar bitinica regina e l'oratore curione in un suo discorso lo definì omnium mulierum vir et omnium virorum mulier marito di tutte le donne e moglie di tutti gli uomini certo è che questa relationship portò buoni frutti alla sua morte nicomede lasciò il suo regno in eredità ai romani e fu così che nacque la provincia di bitinia l'ottimo acquisto non placò però quella linguaccia di cicerone il quale nonostante i continui tentativi di cesare di avvicinarsi a lui continuò a nutrire nei suoi confronti un odio subnolo e strisciano pensate che un giorno in una seduta del senato durante la quale cesare stava ricordando i benefici avuti da re nicomede cicerone si alzò e disse remove cesar lasciamo perdere perché qui a roma tutti sanno che cosa nicomede ha dato a te e cosa tu hai dato a lui tutti questi furono i motivi che indussero 60 cittadini a cospirare contro cesare anche se quelli che la storia maggiormente ricorda e se ne sarebbe ricordato anche dante sono gaio cassio marco e decimo brutto gli organizzatori della congiura i congiurati in un primo tempo erano indecisi se assassinarlo al campo marzio durante le elezioni alcuni lo avrebbero buttato giù dal ponte e altri che si trovavano di sotto lo avrebbero sgozzato ma quando fu fissato che il senato si sarebbe riunito nella curia di pompeo alle idi di marzo non ci furono più dubbi mentre cesare prendeva posto a sedere i congiurati lo circondarono come per rendergli onore ed uno di loro con il pretesto di dirgli qualcosa gli si fece più vicino gli afferrò la toga alle spalle mentre cesare gridava ma questa è violenza bella e buona un altro di loro gli assestò la prima pugnalata poco sotto la gola cesare lo colpì con il suo stilo e tentò di buttarsi in avanti ma fu fermato da un'altra ferita quando si accorse che lo aggredivano da ogni parte si avvolse il capo con la toga e se ne tirò l'orlo fin sotto le ginocchia per morire più decorosamente così fu trafitto da 23 pugnalate ed un solo debole gemito emesso subito dopo il primo colpo ma si dice che mentre marco brutto si precipitava contro di lui abbia gridato tu cuoque figli mi questa fu la morte di cesare e su due cose furono tutti d'accordo la prima è che egli non volesse più vivere a lungo perché era stanco di trascorrere il tempo nel terrore la seconda è che in un certo senso avesse incontrato la morte che desiderava infatti proprio il giorno prima di morire a cena a casa di marco lepido aveva dichiarato che si augurava una morte improvvisa e inaspettata morì a 55 anni e fu annoverato tra gli dèi come tutti sapete già da tempo prima di morire cesare aveva pensato alla sua successione adottando gaio ottavio che all'apertura del testamento partì verso roma per riscuotere la sua eredità la strada per l'impero era ormai spianata